Io sono Gabri Costa e siamo tornati ancora una volta in questo videogioco del 2018, Marvel Spider-Man della PS4. Dobbiamo completare un'altra base nemica, facciamo un altro avamposto Sable, dobbiamo strattonare verso il basso 10 nemici e poi dobbiamo eseguire 5 eliminazioni furtive. Sapete dove si svolge? Al Central Park, capite? Questa volta al Central Park. Però voglio dirvi una cosa, ma come si salverà tutta quella povera gente quando noi dobbiamo fare la nostra azione eroica al Central Park? E' vero, non si parla durante le infiltrazioni. Quello è anche il veicolo degli agenti Sable. Quando sono su queste torri io le faccio cadere premendo L1 più R1. No, le ragnatele a impatto non funzionano quando hanno le corazze sti agenti Sable. Lo sapete di già tutti che gli agenti Sable sono protetti dalle corazze e non dalle armature. È vero, lo sapete già tutti che gli agenti Sable sono protetti dalle corazze. E quando hanno queste corazze si perde tempo, è vero. Ma a picchiarli tantissime volte la loro corazza va subito via e senza corazza vengono eliminati. Ma se abbiamo la concentrazione carica premendo triangolo più cerchio, forse viene eliminato immediatamente. Seconda ondata. se arrivano gli agenti Sable con i jetpack io andrò su tutte le furie, vi avverto. Vi ho già detto che gli agenti Sable non mi piacciono, li odio. E poi è tutta colpa di Silver Sable che mi fa perdere la pazienza. Non credevo che questo avamposto Sable si faceva nel Central Park. Ah, quasi dimenticavo. Mi sono scordato di dirvi che se gli agenti Sable hanno portato dei veicoli con la torretta, toglietela, capite? Per togliere la torretta sul tetto del veicolo, premete L1 più R1. Terza ondata. E' un altro Plutone questo. Ora si perde tempo ragazzi. Quando si perde tempo vuol dire che il video si allunga in maniera incredibile. Quarta ondata. Quarta ondata. Oh, c'è la nostra amica Yuri Watanabe. Ma che si può parlare quando si deve combattere? Ehi tu, dove credi di andare? Non devi scappare via. Stupida agente Sable. Venite qua genti Sable, ho una notizia shock per voi. Vi riempio di botte. No. Arrivano quelli con i jetpack. Quinta ondata. Quinta ondata. Quinta ondata. Quinta ondata. Ancora di questi agenti Sable. Non finiscono mai. Sono sempre in maggior numero. Così tanti che non riesco a eliminarli, a farli fuori. Vediamo se riesco a eliminarli una volta per tutte. Così saranno tutti impacchettati nella ragnatela di Spidey. E quando saranno tutti impacchettati, finiranno in prigione. L'avete sentito agente Sable? Finirete tutti in prigione. Yuri Watanabe e la polizia vi sbatteranno in galera. C'è una bella scella per voi. E poi non bisogna mai mollare. Ancora rinforzi. Ragazzi, quello che metti non rendono tutto troppo impersonale? Beh, parlo io che ho la maschera. Ci sono ancora i rinforzi, ragazzi. Finalmente siamo arrivati all'ondata finale. Dopo aver fatto le cinque ondate, ora è il momento di fare l'ondata finale. Qui non bisogna sbagliare per nessun motivo. Non dobbiamo commettere errori. Arrivano quelli con jetpack. Poi non sopporto degli scudi. Sta giù. Ma questi ol bazooka mi hanno rotto le scatole. Non mi sopporto. Bene, questi sono gli ultimi. Non ne arrivano più. Ecco l'ultimo. Bene, bene, tu sei l'ultimo, vero? Bene, li ho eliminati tutti. Adesso andiamo a liberare i prigionieri. Così si può concludere la recensione e concludere il video. Tenete duro, ora vi libero io. Siete liberi. Bene, direi che il video si può concludere. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi saluto. Ciao a tutti quanti e ciao a tutti quanti. Ho fatto un doppio saluto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.